Asili, libri, pannolini, saranno banalità ma sono i problemi reali dei cittadini italiani. Una retta ad un asilo nido costa 400-500 euro, le famiglie non ce la fanno, abbiamo sempre più famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, abbiamo circa un milione e mezzo di famiglie complessivamente che fanno fatica a tirare la fine del mese, non campano. E quindi quando io vedo, e non lo dico né per strumentalizzare né per fare polemica, visto che si dice mancano i soldi, non è vero perché quando io vedo che nel 2015 il governo di sinistra stanzia un miliardo di euro per dare accoglienza e hotel a quattro stelle agli ultimi arrivati, no, ma te lo dico perché quando tu non hai soldi, siccome la politica ha una grande responsabilità che è quella di decidere, deve decidere come spendere i soldi, allora tu puoi decidere di spendere i soldi per dare l'accoglienza all'immigrato oppure per aiutare la mamma che non riesce a mandare in asilo. Mi ricordo che c'erano delle risorse, tutti i miliardi, mi ricordo che c'erano delle risorse che erano già...